2.540 nuovi casi di contagio in Toscana nelle ultime 24 ore, età media 45 anni. 25 i morti oggi, 14 uomini e 11 donne con un'età media di 84 anni. E 49 in più di ieri i ricoveri, 10 in più in terapia intensiva. I tamponi eseguiti sono stati 16.176 in più rispetto a ieri. Le province di Notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.475 casi per 100.000 abitanti, Prato con 1.357, Pisa con 1.346, la più bassa Grosseto con 595. Complessivamente 26.635 persone sono in isolamento a casa. Se i ritmi di crescita dei contagi, dei ricoveri e dei decessi dovessero mantenersi in linea con quelli osservati nelle ultime settimane, in Toscana prevediamo di raggiungere entro circa una settimana i livelli di ospedalizzazione raggiunti al culmine della prima ondata di marzo-aprile, pur con numeri di terapia intensiva occupata più contenuti. Sottolinea il report pubblicato dagli esperti dell'Agenzia regionale di sanità. L'aumento dei ricoveri, si afferma sempre nel report, va di pari passo con l'aumento dell'età media dei positivi, passata da 40,6 anni a inizio settembre a 44,7 anni, con un aumento di contagi tra ultra 60 anni.